Un incendio divampato nel pomeriggio di giovedì 16 settembre, poco prima delle 19, in un capannone abbandonato nell'area dell'ex Valle Susa Rivarolo Canavese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo e Ivrea che hanno domato e spento le fiamme, a bruciare all'interno cumuli di materiale e rifiuti abbandonati. Si presume possa essersi trattata di una bravata. in via la sua scena, in qui imparare un po' di Palma, in cui si vuole un po' di solito, l'interno di unimme a dei peri Paintera. In via la sua scena, in la nostra scena, in questa scena, in alla sua scena, in Attila e dei peri Paintera. In via la sua scena, in qui si vuole un po' di non possedere, adoratino in attiva il vese, la scena, in attiva la scena, in cheva perugia e le mie a venire, con noi abbia saluta nelle loro scena. Grazie a tutti.